Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andremo a smontare questo HP250G4 per sostituire l'hard disk con l'SSD. Ora procediamo con lo smontaggio. Ricordatevi, i viti sono sempre in ordine. Stacchiamo anche la batteria. Le viti sono un po' svitate. Speriamo di non trovare belle sorprese dentro. Speriamo. 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 Rimuoviamo il lettore CD. Quindi controlliamo che le viti siano state rimosse tutte quante. Ovviamente io controllo sempre anche sotto qui se c'è qualche vite ed effettivamente vedete ce n'è una e una due. Le abbiamo rimosse tutte e ora... Procediamo con lo smontaggio della tastiera perché l'accesso è da questa parte. Io mi aiuterò con questi utensili. Soll freedom di nessuna... Noi si18. Grazie a tutti. Eccola qui. Scocca rimossa e ora andiamo a rimuovere l'hard disk. Uno. Due. Eccolo qui. Ora apriamo l'SSD che io monto i Kingston da 2,40 in questo caso. Ovviamente farò un'installazione pulita del sistema operativo. Quindi nessuna cronazione. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Ok. Siamo pronti a ricollegare il tutto. Perfetto. Perfetto. Uno. Due. Perfetto. 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 Ed ecco qua ragazzi che abbiamo sostituito L'SSD Abbiamo sostituito l'hard disk con un SSD Su un notebook HP Quindi operazione conclusa Ora andrò a distellare il sistema operativo E abbiamo terminato Ora installerò il sistema operativo Ovviamente ci metterò su Windows 10 E poi abbiamo concluso questa operazione Operazione che avete visto è molto semplice E non richiede moltissimo tempo alla fine Quindi ragazzi non vi annoio con l'installazione di Windows 10 E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Grazie.